per andare a letto con il viso pulito 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 e ieri mi sono addormentata prima di te non me ne sono ancora l'uomo è quasi spenta ok 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 Finalmente posso andare a dormire Allora vediamo di leggere un buon libro prima di addormentarmi Finalmente questa giornata è finita Ehi tesoro, ciao Vedo che hai già messo il pigiama, ma vai a letto così, tutta truccata Non ti sta andando a distruccarti Non puoi andare a dormire così, sai? No, no, ti devi struccare Sì, stavo andando andando anch'io, ho preso un libro dal comodino E stavo guardando a quale capitolo ero arrivata l'ultima volta Io non leggo da tanto Però, però, sto notando che tu stai andando a dormire un po' sfatto E non va bene Però capisco Che tu sei molto stanca Molto stanca E probabilmente senti necessità di tuffarti direttamente nel letto Senza struccarti il viso Ma ti posso aiutare io se vuoi Sì, ti strucco io, ok? Ti detergo il viso Sì, 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 tu stai, stai, stai Stai lì, stai lì Mi ti si comoda nel letto Sì, sì, ti puoi anche addormentare se vuoi Non devi temere nulla Allora vado a prendere lo stroccante occhi, viso, la mossa Ok? E poi ti metto anche un bel siero prima di dormire Va bene? Torno subito, torno subito Ok? Allora Ho qui Tutto quello di cui necessitiamo Per andare a letto con il viso pulito, 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 pulito Pulito, pulito, pulito No, non accenderò la luce Rimaniamo così al semipuglio, ok? Allora No, non ti preoccupare Insomma, hai già detto che non ti va a distruggarti Ci penso io, ci penso io Allora tesoro mio Ho preso anche i dischetti Rilassati, ok? 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 Allora Hai lavorato fino a tarda sera oggi? Come ieri Ho capito? E anche ieri sei andata a letto con il trucco Non ci credo E ieri mi sono addormentata Prima di te Non me ne sono accolta Va bene Va bene tesoro mio Oggi non ci sarà questo problema Perché ci sono io con te Beh, le sorelle servono a questo, no? Ieri mi sono addormentata Prima di te Quindi Non mi sono accolta Che Eri andata a letto Piena di make up addosso Vi cuore il fondo di tagliare Impossibile Vabbè dai Non preoccupate Allora Io ho preso Il mio Il mio Struccante Oggi Ok? Distruccherò con questo Sì Qua Noi I prodotti tuoi Non so dove erano Io ho preso i miei Ti conviene provarli Comunque Allora Aspetta che Mi schiupere bene Perché Ancora la soluzione Voglio sapere Sì Sì Non brucia È delicato Sì Ok Ok Fermo Se te lo posso Anche su tutto il resto Del viso Diciamo che Questo è solo Uno Struccante occhi Però Io lo utilizzo Anche su tutto il resto Del viso Vedi com'è Viene Via Facilmente Il trucco Eh già Bravo Esatto Tu usi gli altri Gli altri prodotti Vabbè Poi mi dirai Come ti trovi con questo Ok L'ultimo 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 Quasi Spend Ok Sì L'ultimo Il Grazie a tutti. Ok. Allora, adesso posso a questa mossa, non c'è bisogno di risciacquo. 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 Adesso la lasciamo agire un po'. E la rimuoviamo. Togli ulteriori residui di trucco laddove ci siamo. Ok, credo che adesso possiamo rimuoverlo. Sì, non ti preoccupare, non riguardando residui. Ok, l'abbiamo tolta tutta. Ed infine passiamo al gel, al siero. Questa riflessa, non c'è bisogno di risciacquo. Allora, non c'è bisogno di risciacquo. 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 Ok. 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 Bene, adesso puoi dormire. mi raccomando però non prendere l'abitudine di andare a letto truccata. ok. 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 Ok.